ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video volkswagen golf 1 siamo tornati su una nuova rampa bellissima la serie delle rampe questa sarà la rampa che sta dietro di voi non è vero questa davanti a voi sarà la rampa voi non la vedete perché i veicoli prenderanno una spinta assurda quindi prenderanno la spinta ma vediamo un po questo mi sembra rimane secco quindi un attimo che faccio benzina e poi vediamo una volta fatto benzina siamo pronti a prendere la spinta io non lo so se i veicoli sbatteranno qua giù penso di sì molto probabilmente questo mi vincerà la rampa perché è il primo veicolo però la rampa è questa i veicoli prendono una spinta assurda 322 chilometri orari non l'ha affatto proprio benissimo torna indietro è andata molto a sfiga secondo me cioè addirittura se ne va sotto la rampa no vabbè questo è proprio scassato allora e lo fermo qua perché c'è all'imboccatura proprio della rampa si è fermato l'ho fermato perché sennò arriva a là dove sta il casello golf 7 mi prenderà il golf ci riprova mi supererà il record di velocità che attualmente dei 322 chilometri orari se non mi sbaglio vediamo un po se mi fa il record oppure no via si prende la spinta penso che mi fa il record non lo so però vediamo da come prende qua altrimenti non mi fa nessun record perché i veicoli ripartiranno da dove sono arrivati quindi questo dovrebbe ripartire da qua se sbattono madonna non mi fa il record penso però i 300 mila prende 315 circa ma non è andata bene ragazzi sta rampa è difficile secondo posto eh no primo posto scusate oggi i veicoli saranno tutti molto veloci a parte questo questo non so che problemi c'ha questo era il bmw x6 vedete ero così dagli altri mi prende i 270 quali mi prende 170 però se la potrebbe vincere mi potrebbe fare il primo posto che non ci vuole la mano di dio perché il primo sta proprio sulla rampa il secondo sta qua all'imboccatura quindi secondo già me l'ha superato 225 chilometri orari mi fa il primo posto però attenzione non posso voltare più di tanto quindi sta andando fuori dal mondo quindi gli do un attimo distorzata con lo stesso angolo con cui stavo uscendo dal mondo salita questo lo frega si ferma possiamo fermare noi appena arriva a zero per non farlo tornare indietro questa è la posizione molto buona a primo posto direi comunque nei miei test ho visto già più o meno chi potrebbe vincere questo è il prossimo veicolo sembra se ce la fa partire ehi ford questo è non mi ricordo come si chiama non so come si chiama il furgone della ford qua il suv però va bene lo stesso questo è più lento di quell'altro mi prende 140 qua a posto dei 170 madonna questo è il più lento sulla rampa 200 me li prende mica tanto non mi supera anche il golf 7 con i suoi 173 chilometri orari in uscita dalla rampa mi esci? no che non mi esce ok ah terzo posto non mi supera anche il golf ve l'avevo detto io raga potrebbe vincersela sto coso bmw m75 vai si parte questo che è la m6 o m5 buono molto buono questa sgommata strana 310 km orari madonna il miglior salto finora però se mi atterra bene ok diciamo che va abbastanza bene dovrebbe aver trovato il secondo posto si perchè gli altri stanno là sopra sulla rampa secondo posto non male porsche cayenne completamente blu 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 no blu blu brum brum vediamo un po' la sua velocità sulla rampa quale sarà attenzione è brutta la sua sgommata non si ferma quindi possiamo continuare molto brutta la sgommata poteva farmi il record di velocità 264 km orari attenzione mi fa il secondo posto si forse si secondo posto raga porsche cayenne terzo posto bmw m5 primo posto che cazzo era il primo posto boh primo posto era bmw x6 quindi primo posto bmw x6 ma penso che ne avremo subito un nuovo primo posto con questo furgone opel non so se opel mi pare più un logo toyota però boh non fa niente quello che è furgone insomma questo salta da dio però gira poco quindi è super controllabile primo posto bmw x6 secondo posto che cazzo era quello di prima porsche cayenne e terzo posto bmw m5 via con questo furgone guardate quanto cazzo cammina cioè quello sta a 140 la sotto il porsche a 170 questo invece mi prende 250 si ferma però attenzione potrebbe essere un errore da parte sua oppure vuole far vedere tutta la sua potenza più o meno si era fermato la mi hanno dato 10.000 euro ma mi hanno tolto 75 va bene lo stesso vediamo un po' molto veloce decisamente tanto veloce 270 km ora che cazzo è successo? no aspettate questo ha avuto un qualche problema però questo ha qualche problema ha avuto decisamente qualche problema sulla rampa che non è mai uscito a 40 all'ora quando stava a 300 però vabbè dobbiamo riprovarci per forza raga praticamente questo mi ha fatto così perchè c'ha 5 marce quindi 1 2 3 4 e poi lo mettiamo in manual e dobbiamo per forza e dobbiamo per forza andare così questo è in devriere l'ultimo attente di dove cazzo sto? dai raga questo mi vuole far perdere la rampa questo furgone perchè sa il gioco sa che questo mi vince la rampa oggi pur io sono sicuro al 100% che questo mi vince la rampa però vabbè non lo so dobbiamo stare molto attenti comunque ok mi fai 280 280 e qualcosa sulla rampa io lo sapevo e questo mi prendeva il secondo posto in teoria secondo posto sicuro il Porsche no però va a fare il terzo posto preso no in teoria c'è il secondo posto si anche se è di poco penso che c'è il secondo posto si secondo posto perchè quello si è fermato poco più avanti di quel pallo l'ha buttato giù secondo posto furgone non lo so furgone furgone quindi abbiamo Mercedes-AMGay ragazzi al primo posto abbiamo il SUV dal secondo posto furgone terzo posto berlina wow vediamo se è questo che dovrebbe essere coupé penso non sono proprio sicuro dovrebbe essere una sportiva più che altro però va bene lo stesso mi fa il record di velocità che è attualmente dei 320 320 307 nooo dai ultimo posto no perchè l'ultimo è quell'altro lai golf 1 prossimo veicolo Porsche Panamera ragazzi abbiamo perso un veicolo molto importante prima che mi poteva fare tranquillamente il primo posto in quelle condizioni io c'ho paura dell'Audi io c'ho paura dell'Audi raga dell'Audi r8 c'ho veramente paura dell'Audi r8 adesso mi ha fatto una bella sgommata siamo un po' 280 290 301 no 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 aspetta no 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 non è proprio possibile e infatti non è vero pericolo scampato anche se di poco non mi faceva l'asino che arrivava ultimo dietro ho proprio una distanza imbarazzante dal penultimo che al momento è il golf no quale golf come cazzo si chiama Mercedes Mercedes GLA se parte se parte sulla rampa che questa ancora non è la rampa però i SUV vanno piano raga non lo so perchè ma insomma 200 diciamo che può andare bene mi è piaciuta pure la sgommata di questo vediamo quando becca sulla rampa non mi fare come il Mercedes di prima 306 vabbè è una rampa che o mi prendi 400 o no o mi prendi 100 i veicoli così non vanno bene che mi prendono 300 e poi basta ma se io provo a fa così tanto la posizione di questo non la contiamo e poi faccio così e poi faccio così mi becca 217 ne ho pensato molto di più e iniziamo a vivere i buoni Ferrari raga Ferrari mi dovrebbe fare il record di velocità che attualmente deve 320 più o meno 322 mi pare mi dovrebbe beccare almeno i 330 vediamo un po' sì 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 332 bello anche il salto più o meno è andato un po' di sfiga diciamo quinto posto non lo sa quarto posto no quinto quarto quinto posto insomma non si conta raga Ford Mustang mi farà il record di velocità penso di sì perché già sta a 200 dalla partenza cioè guardate quanto cazzo cammina sta cosa un freno se no non si controlla no non mi fa il record peccato una bella macchina mi può vincere però ancora la rampa non è detta l'ultima parola andiamo un po' non mi fa il record perché è partita troppo lontano da troppo vicino scusate quasi molto più veloce di altri veicoli 295 mi pare mantieniti dritta no raga quarto posto quarto posto poteva vincermela sicuramente sarà lui il vincitore Scania raga quando si tratta di Scania si tratta di Scania prendiamo la rincorsa vediamo un po' che cazzo uscirà fuori ma penso comunque che non farà niente perché andrà a sbattere contro il ponte dell'autostrada già sgomma di parte su 200 ce li ha raga la spinta ce l'ha la spinta ce l'ha 200 254 diciamo che non è andata benissimo prossimo veicolo ahhh DAF XG madonna sta a passare pure il treno non so se l'avete visto dietro ma questo tanto non mi fa più di 230 quindi che cazzo lo usiamo a fa' vabbè non lo so anch'io perché lo stavo usando tanto pure se sbatte qua più di 200 non me li prendeva lo stesso mi tocca pure tornare indietro per riprovare in teoria dai vabbè dai vaffanculo via 200 300 manco mi riprende sulla rampa non sa 200 mi prende sulla rampa questo via un po' 214 km orari vabbè si sapeva che fine faceva cioè ma non ce la fa proprio se uscire pure un camion a me dovrebbe saltare come un... sto cazzo che è sta roba non lo so mi potrebbe vincere la rampa assolutamente si mi si è chiuso il programma di registrazione ma perchè non si hanno stato sempre questi cazzo di problemi via stavolta ce l'ho aperto madonna super veloce pure questa eh mi pare che mi aveva fatto schifo nella prima rampa però pure adesso mi farà schifo però vabbè non lo so che l'ho usato a fare il DAF di prima però vabbè non fa nada non fa nada di nada 81 pare che avevo detto nello scorso video non è vero di 47 anni fa 295 km orari niente male la cosa se non mi fosse volato da Gesù qua in mezzo alle palle in mezzo alle piante ve lo dico spinta varie a come stava andando prima più o meno così stava andando fuori dal mondo dove arriva non ce la fate ad arrivarmi non mi arriva no non mi arriva che cazzo stava mu un equilibrista Audi RS6 ABT e andiamo con gli ultimi due veicoli di oggi vediamo un po' questa quando mi becca molto veloce abbastanza veloce si da potermi vincere non lo so vediamo vediamo buona la sgommata pure non male non male non male l'Audi raga eh non preoccupo più dell'R8 mi sa che non la vediamo oggi buono madonna primo posto nooo l'Audi al primo posto sta uscendo dal mondo quindi ti do una piccola sterzata la madonna raga che cazzo di salto mi ha fatto l'Audi io non sto accelerando eh perché sta in folle mamma mia raga l'Audi vabbè io ve l'avevo detto che c'avevo paura dell'Audi che mi poteva fare il primo posto e infatti ma di parecchio pure mamma mia perché da qua stava la ramba e gli altri sono arrivati qua e quest'altro mi è arrivata qua giù io dico no a tutto questo raga mica si ferma Audi RS6 ABT primo posto secondo posto come cazzo si chiamava BMW X6 terzo posto furgone furgone perché non si sa che marca è la Ford ragazzi vuole portarsi a casa la rampa con questo ram vediamo un po' quanta ram 274.266 0 Gb vediamo un po' come prende tutto vale come prende da qua buonissimo ottimo ottimo i 300 me li prende si 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 300 appena sfiorati ha avuto una fortuna assurda ma anche abbastanza sfiga perché torna indietro mi poteva fare il terzo posto sto bastardo e quando si ferma più questo ottimo oserei dire quarto posto di poco mi sa che è quinto ma di pochissimo di poco dovrebbe essere quinto ma di poco però poco poco quinto posto si conclude così questa rampa che vede vittoriosa l'Audi RS6 ABT secondo posto no secondo posto BMW X6 e terzo posto furgone ragà il furgone è molto cattivo oggi questo è molto buono però ho avuto un po' di sfiga cioè un po' di fortuna all'inizio e sfiga dopo spero che questa lampa vi sia piaciuta lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale guardate il disco come diventa rovente quando io vado a frenare è una velocità alta non è diventato ciao